Carissimi tanti auguri di Buona Pasqua, Cristo è risorto e vivo in mezzo a noi, una Pasqua inusuale per questa pandemia ma che comunque deve portarci tanta gioia nel cuore. Io voglio essere vicino a tutti voi, soprattutto alle vostre famiglie, nelle vostre case, coi vostri cari e domani che è il giorno di Pasqua prima di mettervi a tavola provate a ringraziare il Signore, a chiedere a Lui veramente che si renda presente come i viventi risorti nella vostra vita e soprattutto un pensiero alle persone sofferenti, alle persone ammalate, alle persone tristi e anche a coloro che devono elaborare un lutto in questo tempo così difficile. La Pasqua di Gesù porti veramente speranza, vita nuova e tanta gioia. Grazie e tanti auguri e Buona Pasqua e che Dio benedica tutti voi. Grazie.